ciao bella gente benvenuti nel mio canale allora io volevo farmi le unghie ho deciso i colori di natale delle unghie disegnate in modo carino comunque mi è arrivato il mio pacco di amazon con dei smalti dei dei colori che vi faccio vedere alla fine del video vi lascio video tutorial ci vediamo dopo ciao 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 unghiette belle anche se è difficile fare con sta mano però fa niente, guarda che belle che sono mi piace tantissimo comunque volevo dirvi che il pacco che mi è arrivato mi è arrivato allora a me mi è finito il come si chiama, mi è finito il top coat e quindi ho detto piuttosto di comprare il top coat da solo ho trovato questa offerta sono quattro colori sono quattro colori più il base coat e il top coat di normale io avevo questa marca che si chiama gel favor molto buono i colori sono molto belli sono molto soddisfatta tutte le altre volte quando ho fatto il colore più o meno utilizzavo questi bellissimi non posso dire assolutamente niente sono contenta e soddisfatta spero che vi è piaciuto il mio video spero che vi è piaciuto come ho fatto il mio unghiette come vi ho detto il Natale quest'anno è un pochettino triste perché io lo passavo a casa non lo so se posso se qua sarà ancora aperto perché non si sa per il momento non stanno chiudendo non hanno chiuso ancora niente io lavoro fin di settimana in un ristorante per il momento la foro delle persone sono al 50 al 30 dentro il locale anche il locale piccolino però ha una terrazza enorme sul mare a Bossa Vlaia molto 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 carino molto carino e si mangia da Dio per la gente che sono qua a Valencia ve lo consiglio tantissimo perché il cuoco di Fabio è bravissimo vi lascio sotto il link del ristorante se volete passare fin di settimana mi trovate là a Natale credo che lavoro perché mi ha detto forse hanno delle prenotazioni però non si sa se rimangono aperti non rimangono aperti noi là cioè loro vivono praticamente al giorno perché non si sa mai e per il momento al misogiorno lavoro la sera credo che non lo so credo che faccio un salto assoluto alla Yami se è possibile perché lavoro dentro le case credo che sono serie di persone ma io vado sotto il suo balcone mi ami auguri almeno la vedo il mio amore comunque per la gente quest'anno è così tolleriamo questo Natale questo Capodanno che arriva in frattempo io festeggio uguale ho fatto l'albero di Natale faccio le mie cose faccio una cenetta meravigliosa il Capodanno se esco bene se non esco faccio un Capodanno da sola non me ne frega niente io mi diverto uguale metto musica e mi metto a ballare con Cali quindi non mi interessa e niente spero che quest'anno finisca e spero che finisce sto cavolo di Covid torniamo alla vita normale a lavorare e avere una vita decente perché quest'anno è stata un pochettino traumatica perlomeno per me non so le altre persone per me è stato un anno di cambiamenti in tutti i sensi in tutti cioè sentimentalmente nell'ambito lavorativo è stato un atto è stato un anno un po' un po' così però fa niente la vita è questa la vita è fatta di cambiamenti la vita è fatta per farci crescere comunque bella gente spero che vi è piaciuto il mio video spero che vi è piaciuto il video dei miei mondi spero che mi seguite scrivetevi al mio canale mettete mi piace e mi raccomando scrivetemi sotto cosa volete che vi faccio di farmi compagnia di scrivermi su Instagram su Facebook e vi aspetto ciao bella gente ciao a tutti ciao a tutti